Questa volta dobbiamo sconfiggere Kitana, però non è da sola, ha il suo cameo Tania. In questo settimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 1, dobbiamo usare sempre Reptile, lo zaterrano. Cerchiamo di vincere e vediamo di non fare sciocchezze. Il nostro zaterrano riesce a combattere, e poi lui è di zaterra. Sembra proprio che abbiamo finito, vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Presto anche tu scoprirai la verità.